Sulla mancata accensione delle caldaie nelle scuole arriva la nota dei quattro componenti del gruppo misto al Consiglio Comunale di Favara, Marelli Chiapparo, Rossana Castronovo, Sergio Caramazza e Vito Maglio. Inizia male questo 2020 per tanti studenti costretti in classe al freddo e al gelo e addirittura a manifestare pur di avere risposte. Non ci sono giustificazioni che tengano contro questa palese incapacità amministrativa. E quanto dicono i quattro consiglieri. Non hanno imparato nulla dagli anni passati? Si chiedono i quattro riferendosi a chi sta guidando la città di Favara. L'amministrazione è recidiva nella negligenza e anche quest'anno ha lasciato le classi al freddo. Ci sono stati più di 20 giorni di fermo delle attività didattiche durante i quali, in via preventiva, sarebbe bastato un intervento di ordinaria amministrazione per garantire i diritti dei bambini ed evitare i disagi che si sono manifestati in questi giorni nelle scuole. La verità, dicono Chiapparo, Castronovo, Caramazza e Maglio, è che per questa amministrazione l'ordinario diventa straordinario e lo straordinario diventa impossibile. Eppure il primo cittadino non ha mai perso l'occasione per gridare al cambiamento e, in tutta franchezza, se questo è il cambiamento siamo veramente preoccupati per quello che ancora ci aspetta. «Faccia un mea culpa, sindaco», concludono i quattro membri del gruppo misto in consiglio. «Metta da parte l'improvvisazione e l'arte del tirare a campare e governi seriamente per rispondere ai bisogni della città. Favara deve essere ricostruita su quelle macerie che, questa volta sì, in soli tre anni ha prodotto questo sindaco e la sua giunta». Grazie a tutti.